In Superbike in scena anche Monza, l'unico circuito che se la tira e crede di essere ancora negli anni 70 e 80, per certi versi lo è, incurante del fatto che è stato amministrato da personaggi che hanno mille beghe legali e stanno mandando tutto a rotoli, l'ex tempio di velocità crede di esserlo ancora. I prezzi, 45 euro per le prove del sabato, poi altri 20 per accedere alle tribune, a scari, e 35 per il paddock, fanno 100 euro più o meno, insomma se uno con uno stipendio normale ha una famiglia e vuole portarla a vedere la gara cosa fa? Vende un rene o non fa? Non fa! Infatti le tribune e molti altri spalti erano vuoti, sulla sicurezza però non hanno lesinato, infatti c'erano più guardie che pubblico, belle severe, ottima anche la gestione della sala stampa con un costo di 40 euro per il weekend ed una connessione che è l'ora di mandare i pezzi e i comunicati non funzionavano, può succedere, però non è successo che hanno dato indietro i soldi, questo no. A casa mia si chiama furto, a casa vostra non lo so, e poi tutto così, tutto incasinato, dovrebbe arrivare un nuovo direttore, si parla di Alfredo Scala di Vallelunga, in bocca al lupo, ma mi sa tanto che anche se non ha funzionato internet non è stato un gran peccato visto l'informazione che viene fatta, non vale nemmeno la pena di mandarli i pezzi, nessuno ha parlato dell'ufficiale giudiziario che è andato a consegnare un'ingiunzione al team Liberty, circostanza confermata dallo stesso patrono del team anche sul mio Facebook, con tanto di candida ammissione. Ah, sono venuti ma tanto non hanno trovato più la persona, quindi tutto a posto. Non se ne è preoccupato nessuno di questa cosa. Nel frattempo accanto al track, al camion Liberty c'era il camion di HTM Racing, quello di Clementi, per un ritardo di pagamento, di un pagamento nonostante uno sponsor indiano in arrivo, così dicono, BMW li lasciati senza moto all'ultima ora, ci può stare, ma Dorna non ha fatto niente, nonostante abbia fatto capire che i piccoli team privati sono il futuro della superbike come la vogliono intendere. li ha aiutati così, ignorandoli. Mentre in Moto2 e Moto3 prendono i soldi, in superbike questo non succede. Nell'intervista concessa a mia ECMA, il mister Speleta, mi aveva detto che i team dipendono da Dorna e Dorna dipende dai team. In superbike invece si arrangiano. Evidentemente non c'è la stessa voglia di tenerla in piedi che c'è per la MotoGP. Avevo fatto un'altra domanda al signor Speleta, riguardava la pulizia. In MotoGP solo team controllati e ordine. Non ci sono team che impazziscono, decidono di non correre, fanno casino, lasciano debiti, cambiano piloti ogni 5 minuti. Gli ho chiesto se la superbike sarebbe stata allineata a questo aspetto della MotoGP. Nessuna risposta. La risposta è arrivata quest'anno. Corre un team che ha più debiti che altro e che deve soldi anche in MotoGP. È riuscito a fare debiti anche lì. Se l'è cavata cambiando nome alla società che lo gestisce è sede fiscale. Evidentemente mentre in MotoGP certe cose non si possono fare, in Superbike c'è libertà di fregare chi ci lavora dentro e di ripresentarsi senza problemi. Gli aspetti positivi di Dorna in questo caso non sono arrivati. Tornando alla cronaca, Battama andrà giustamente a quel paese Ducati perché gli dà delle moto che fanno schifo e sono scarsamente competitive rispetto ai soldi che spende e se la prende personalmente con Gombaier. Su questo sfogo personale non sono d'accordo. I due anni in cui non ha vinto niente con BMW spendendo 15 milioni l'anno non c'entrano niente con Ducati. Secondo me proprio questa frase sarà la fine del rapporto fra Ducati e All Star. Magari continueranno il campionato insieme ma di fatto è finita. Onoreranno freddamente i contratti ma di fatto è finita. Mentre Battassi è sfogato ma non era veramente intenzionato a rompere a mio avviso era uno sfogo d'amore Ducati ha fatto buon viso a cattivo gioco ma gliela farà pagare secondo me. Ha già chiuso le porte perché non puoi farti trattare così in diretta da un cliente. Chissà se cieca ha voglia di continuare in un campionato con una moto così. Per quanto riguarda la TV abbiamo assistito alla più spettacolare prova di direttantismo come delle ultime gare di superbike e MotoGP sommate insieme. I telecronisti non sanno quando corre la stocca e dove. Cereghini definisce Gintoli non certo un fulmine di guerra. Sta dicendo che insomma a bontà sua che il leader del campionato è una pippa. Che Fabrizio e Giuliano guidano uguali. E Dio sa se al mondo ci sono più piloti più diversi fra loro. Che scassa è colpevole di un incidente in diretta. e Budel è quello che aveva dato dell'asino a Rea, Rea si dice Rea e Laverti proprio a Monza quando ancora Mediaset non aveva i diritti della superbike come argomento a piacere a solo quello della prima curva. Lui si è preparato su quello. Dopo aver collezionato insomma nelle altre tappe figuracce sulle gome su tutto quello di cui argomentava e dopo che da settimane riceve un veramente no come inizio di risposta da tutti i piloti si è specializzato nella prima variante. Lui sa quella. Argomento a piacere. E chiede a tutti notizie su questa staccata. In stock è la parte più pericolosa del circuito. In superbike? No, in superbike c'è il problema del parcheggio. Che domanda è? Insomma ho mandato senza guinzaglio e museruola a chiedere a non mi ricordo quale pilota super sport se ce l'avrebbe fatta a fare un'altra partenza. No, la quarta partenza non la faccio. Non so se ne hai idea di farla. Mi fermo a contarti i capelli. Ci tratteniamo io e te. Per quanto riguarda i casini in gara è successo di tutto. L'anno scorso hanno crocifisso in front accusata di essere un'organizzazione di clown perché a Monza ci sono stati incidenti, pioggia e tutto il resto. Quest'anno ci sono state quattro partenze nella super sport con tre bandiere rosse e nessuno ha detto niente. La call qua è solo della pista. Idem per il taglio di variante. Con il caso Viaggi erano tutti ridicoli secondo me. Definiti nani e ballerine. Domenica invece c'è stato il ricorso e il controricorso. I piloti hanno i polpacci grossi a forza di fare su e giù dal podio. Fanno step. Tutto normale o quasi. Per sapere come è finita la gara devi bere tre energy drink e rimanere sveglio tutta la notte. Gli danno i risultati di notte come le elezioni. L'aprile com'è andata? Al centro nord abbiamo tenuto, al sud si sa che siamo deboli, contiamo i seggi. Gli anni passati è stato crocifisso il povero Ciabatti che era il direttore generale di Infron per essere il capo di una squadra di pagliacci che non sapeva gestire le corse e che era succube di una direzione gara addormentata. Invece stavolta tutto è normale. Del resto, adesso che si posseggono i diritti non è più serie B e quando ti da da mangiare anche la cacca puoi dire che è cioccolata. L'informazione funziona così.